Eccoci qui ragazzi in un nuovo video, in questo video andremo a fare un'analisi di quella che è l'attuale situazione dei mercati perché oggi finalmente c'è stata un po' di volatilità o meglio più che oggi in realtà ieri perché questo video lo pubblicherò poi domani quindi quello che faremo in questo video è un piccolo e breve recap di quello che ci eravamo detti nel mio ultimo video mostrerò quello che mi aspetto e potenzialmente che potrebbe succedere nei prossimi giorni sull'S&P500 e su Bitcoin e come al solito i prossimi trade che ho intenzione di aprire. Quindi ragazzi se siete nuovi su questo canale e vi piacciono queste tipologie di contenuti quello che vi chiedo è di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale perché in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube e in più mi fa molto piacere. Allora nel mio ultimo video ho detto chiaramente di essere particolarmente bullish sui mercati e che mi aspettavo una risalita, risalita che abbiamo cavalcato con delle ottime posizioni long però sempre nel mio precedente video ho anche detto che nel momento in cui Bitcoin fosse arrivato intorno ai 21.500 dollari avrei aperto una posizione short proprio perché i 21.500 dollari sono un'area di forte resistenza infatti ho aperto questa posizione short, posizione che in questo momento è ancora aperta quindi tra un attimo andrò anche a dire quando ho intenzione di chiudere questa posizione short e che cosa mi aspetto prossimamente da Bitcoin e dai mercati in generale. Come al solito tra l'altro sotto in descrizione trovate anche il link di Bybit e Bidget che sono le principali piattaforme che utilizzo per fare trading di crypto e trovate anche il link dei video tutorial completi che ho fatto personalmente. Tra l'altro complimenti anche a qualcuno di voi che mi ricordo che nel mio precedente video mi aveva detto che aveva la stessa strategia quindi quella di entrare short intorno ai 21.500 dollari. Quando ho intenzione di chiudere la mia posizione short e come ho intenzione di posizionarmi successivamente. Allora innanzitutto c'è da dire che con questa prima correzione abbiamo già toccato la prima fascia di supporto la fascia dei 20.500 dollari circa. Quindi già quello era un buon livello per chiudere la posizione short. Personalmente non ero davanti al computer altrimenti credo che almeno la metà di questa posizione l'avrei chiusa. Nel momento in cui sto girando questo video il prezzo si trova intorno ai 20.900 dollari. Questa non è una posizione short che voglio mantenere aperta per troppo tempo non voglio che sia uno swing potenzialmente di settimane perché giustamente uno potrebbe anche pensare magari questo è l'high quindi il massimo di questo rally e di conseguenza scenderemo nuovamente nel livello di prezzo tra i 15.500 e i 17.000 dollari circa. E questo potrebbe anche essere sicuramente a per via di un paio di motivi che andrò a mostrare tra un attimo. Come dicevo non ho intenzione di mantenere aperta per troppo tempo questa posizione short. Quindi personalmente nel momento in cui dovessimo scendere tra i 20.000 e i 19.500 quindi in questa fascia di prezzo andrò a chiudere la mente alla posizione short. Quindi quello che penso è che nonostante sia stata una risalita abbastanza aggressiva che potrebbe anche essere terminata il prezzo potrebbe continuare a scendere nelle prossime settimane non mi stupirei di vedere un piccolo ritracciamento nella fascia di prezzo che ho citato quindi tra i 19.500 e i 20.000 dollari per poi vedere il prezzo di bitcoin risalire. Perché oltre al fatto che in questo momento abbiamo rotto con violenza qualche giorno fa e siamo ben al di sopra di quello che penso che sia la fascia di prezzo più importante in questo momento quindi i 18.600, 18.700 dollari circa Ricordiamoci anche che tra la fine di gennaio e i primi di febbraio ci sono tutta una serie di avvenimenti molto importanti per i mercati per esempio il primo di febbraio ci sarà il meeting della Federal Reserve meeting nel quale decideranno anche di quanto alzare i tassi di interesse personalmente credo che alzeranno i tassi da uno 0,25 a uno 0,50% però nel momento in cui i tassi fossero alzati dello 0,25% non mi stupirei assolutamente di vedere una risalita dei mercati sommato anche al fatto che sempre in quei giorni quindi tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio ci saranno anche le trimestrali delle mega cap quindi le varie Apple, Amazon, Google eccetera eccetera e se per caso i dati delle trimestrali dovessero essere positivi a quel punto non avrei dubbi di vedere una continuazione del pump anche a livello tecnico in questo momento la situazione dell'S&P 500 è abbastanza interessante perché sicuramente ci troviamo sotto a questa resistenza diagonale che anche questa volta come avevamo previsto ci ha respinti però notiamo anche che nell'S&P 500 sembra che si stia formando un pattern molto interessante che è un head and shoulder rovesciato quindi un testa a spalle rovesciato quindi uno dei motivi per cui in questo momento non ho intenzione di mantenere troppo a lungo delle posizioni short aperte è che questo pattern, questo testa a spalle sul S&P 500 sommato anche al fatto che tra una decina di giorni 10-12 giorni ci saranno tutta una serie di eventi importanti che potrebbero avere un certo impatto sui mercati potrebbe a mio parere alzare di parecchio le probabilità di rompere questo trend e quindi andare a rompere questa resistenza diagonale e possibilmente andare a toccare 4.300 punti circa questa sarebbe una vera e propria invalidazione della struttura di mercato che in questo momento non è ancora stata rotta perché abbiamo avuto massimo a gennaio 2022 quindi un anno fa circa successivamente un lower low poi lower high ancora lower low lower high lower low e ora in questo momento ci stiamo ritrovando a fare un lower high quindi questa struttura di mercato cambierà solamente se andremo a rompere questa resistenza questo precedente massimo ripeto ancora una volta a tutti coloro che in questo momento hanno delle posizioni short aperte che ovviamente ognuno faccia ciò che vuole non è un consiglio finanziario ma attenzione a pensare che abbiamo necessariamente toccato il massimo di questo uptrend perché non è assolutamente detto cavalco molto volentieri anche io questa posizione short di cui avevo già parlato nei giorni scorsi attenzione perché dopo una breve correzione non mi stupiere di vedere una risalita ed eventualmente una rottura dei 21.5 per andare a livelli di prezzo superiori però per ora gli unici trade che ho in mente oltre che mantenere ancora aperta per poco questa posizione short è nel momento in cui il prezzo di bitcoin dovesse scendere ulteriormente andare sulla fascia 18.5 18.700 aprire un primo scalp long nel momento invece in cui non dovesse reggere il livello dei 18.500 e 18.600 a quel punto al primo ritesta la prima chiusura al di sotto aprire una posizione short per quanto riguarda invece posizioni long in questo momento sono abbastanza neutro inizierei ad essere particolarmente bullish solo se andassimo a rompere al di sopra del massimo fatto qualche ora fa in questo momento è abbastanza rischioso perché lì vicino quindi intorno ai 22.2 c'è una piccola resistenza ce n'è un'altra più consistente intorno ai 22.800 quindi ripeto in questo momento sono abbastanza neutro per quanto riguarda soprattutto le posizioni long farò ovviamente come al solito degli aggiornamenti nei prossimi giorni quindi ragazzi arrivate a questo punto ora fatemi sapere sotto nei commenti come siete posizionati se avete delle posizioni short ancora aperte fatemi sapere fin quando avete intenzione di tenerle aperte io come al solito spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile come al solito non dimenticatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale direi che anche per oggi è tutto noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video grazie a tutti